Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraftita, sesta stagione e ho droppato appena la spada ora, questa l'avete riconosciuta, noi la torre che abbiamo costruito diversi episodi fa e... si era detto, un episodio, si ogni... ho un piano ogni 10.000 iscritti, ok? e... l'ho finita, esatto tadan, porca miseria quanto è alta, perché sono 9 piani sono tipo 4 blocchi a piano è tanto alta, ma è fottutamente alta, io non pensavo venisse così alta è più alta della piramide, della... della cosa è cazzo della piramide, ma è molto più alta è più alta di qualsiasi altra costruzione che abbiamo fatto, a parte quella, ma quella è volante, quindi non conta c'è l'Iron Titan che è più alta, quella è più basso cioè, praticamente muori se cadi da qua sopra, che cazzo è decisamente alta dovremmo fare un altro piano per arrivare ai 100.000 e poi ci scriviamo sopra 100.000, e basta hop, oh, voilà, ok, perfetto un volo poteva andare meglio è grossa, devo essere sincero, è grossa, molto molto grande però è figa, cioè, a me piace un botto ci ho messo, non tantissimo, perché alla fine reperire i materiali è stato veloce guarda questa bestiaccia che stava qua e tu da... come cavolo ci sei arrivata qui? butta tutto, butta tutto ok, perfetto eh, leviamo le lightra, rimettiamo la chestplate e dovremmo mettere un paio di sacci allora qua, perché cazzo eh, no, non va bene se spawnano mob no, 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 non ci siamo ok, lasceremo queste due torcine qua e siamo a posto ecco fatto il tutto abbiamo completato la torre ci vorrà, non so quanto o quando potrò aggiungere il prossimo piano poi ci mettiamo sopra il tetto ci facciamo la scritta 100.000 tutta bella, tutta carina simpatica e va bene ho deciso di chiamarla Free Tower beh, non male, no, perché cazzo la torre di Free, Free Tower ovviamente, tipo la Trump Tower era una roba genere ok, ho messo le armature qua ho fatto queste armature ne ho messe anche di qua tutte belle, tutte fighe tac e ci sono ovviamente speculari dall'altra parte ok, perfetto tac, tanta roba poi per quanto riguarda il portale del Nether penso sia connesso anche questo adesso lo voglio provare dobbiamo fare tutti questi collegamenti spero che non mi riporti poppa del culo ok e la madonna e la madonna la gente che c'è cazzo, lì ci sono un botto di rose e per questo potevamo andare a fare il culo al mondo guardate quante rose c'erano qui c'è anche uno stronzetto nel minecart quindi l'idea è che lui mi ha creato sto portale qua ed è giusto perché alla fine è il portale collegato, va bene? è questo, cioè è giusto che sia qui il portale ora questi li toglieremo perché sono un bordello togliamo anche questi non voglio prendere tutte queste rose voglio evitare assolutamente di prenderle e portarmeli addosso utilizzeremo degli accendini per bruciare il tutto brucia tutto, brucia tutto brucia tutto bravissimo adesso rileviamo questo no perché se no io prendevo una quantità di roba è eccessiva e poi dovremmo inventarci qualcosa per non far espandere il fuoco e allo stesso tempo per bruciare le rose perché qua cazzo così non si può andare avanti perché ovviamente utilizziamo la stessa portale del nether tac perfetto rispegniamo tutto e può andare per ora così torniamocene di là sono curioso di vedere però dove dove ci porta perché non so dove ricompariremo beh non male penso al portale solito se mi spacca la piramide ok solito portale che alla fine è anche vicino a casa ormai si vede benissimo dove è casa prima era un casino no perché non notavi cioè non vedevi solo quello e poi non è che lo notavi bene adesso invece devi fare proprio due metri perché sei già completamente arrivato a casa sono spawner fa veramente schifo non so per quale motivo non mi funzioni non ha mai funzionato è stato un po' un fiasco totale sto cosa però adesso mi sembra anche grande come costruzione adesso è veramente veramente piccola in confronto ai giganti che abbiamo costruito ultimamente stavo pensando no una cosa perché noi bene o male non abbiamo definito dei confini di questa regione ma è difficile farlo perché i nostri domini si estendono da là praticamente in fondo perché c'è ci sono zone che non utilizziamo tanto e vabbè per carità da là in fondo c'è tutta sta parte no anche qui il villaggio cioè so che ci sono invasioni di mob costanti io ho una barca qui che cazzo ci fa c'è anche un creeper l'ho visto tranquilli se riesco a girarmi perché non c'ho i boost qua non ho i potenziamenti un po' certo lo so è problematica la questione ma tanto dovremmo riuscire a ucciderli uguale no perfetto bene e va bene fino a qua praticamente che ci sono le le cose il nostro villaggio dell'acqua che ok non è finito qua la barca però ci può star bene carina magari buttiamo anche questo e questo ok si qua la barca ci sta bene porca miseria un arciere e poi ok va bene e fino a qui siamo tutti d'accordo dopodiché guardate che non mi ha preso qui dovremmo fare un bel ponte probabilmente faremo sì un bel ponte qua che collega il villaggio che poi andremo anche a finire sto villaggio lo dobbiamo assolutamente finire con tutte le varie stradine perché qua ok vabbè che c'è la miniera ma non c'è granché poi che cos'altro possiamo fare che cos'altro cioè dove altro arriva qui c'è tutta la parte centrale con la nostra facciatona enorme beh bellissima sto cosa poi qua abbiamo l'orticello dove attingo io a prendere carote su carote su carote la lì la farm però vabbè fottese che non ci arriveremo mai la free tower la stalla dei cavalli forse sarebbe il caso di farlo di giorno a sto giro il mob spawner lì poi arriviamo insomma fino alla zona di spawn che sarebbe quella lì dove sta l'iron titan insomma disegnare dei confini qua non è facile ed è veramente complicato e ero intenzionato a farlo devo essere sincero per erigere delle mura o roba varia però penso che sia davvero davvero improbabile allo stato attuale delle cose quindi o facciamo delle cerchie murarie primarie poi magari le allarghiamo successivamente oppure mi sa che per sto giro le mura noi non le facciamo che ne dite? comunque come episodio di oggi che cosa volevo fare? una... cioè un test più che altro una cosa di prova perché qua se no non... non ci vengono bene le cose dovevo fare st'episodio ma voglio provare alcune cose perché mi hanno mai detto che sono possibili visto un video allora ho detto ok va bene era una cosa che mi piaceva un botto nella vecchia 1.9 e ho detto 1.11 ci riproviamo oh il primo che indovina no ma perché l'avete letto da titolo figa indovini chissà che indovini ce l'ho scritto grosso nel titolo se poi che cazzo di sospanza vi faccio stavo per dire il primo che indovina che cosa faccio con tutti questi materiali vince ma tanto l'avete letto tutti nel titolo avete aperto questo video probabilmente per il titolo perché è una cosa oggettivamente figa e io vi faccio anche la sospanza e dico oh ma chissà che cazzo fa cosa fai l'elevatore d'oggetti madonna è possibile basta allora sì elevatore d'oggetti andiamo a parlare un po' perché funzionava 1.9 era veramente figo il fatto di mettere un blocco tra due e funzionava era bellissimo il fatto che si potesse fare una roba del genere era estremamente bello divertente molto molto figo ora non hanno più reso possibile questa cosa ma beh non male noi potremmo fare una cosa altrettanto figa e utile interessante e simpatica voglio tornare un punto adatto ai nostri testi ciò quale possa essere non ho la più palle di idee io non ho un punto dei test dovrei farlo devo crearmi una piattaforma dove testo cose qua qui ci voglio fare una nuova piattaforma intanto adesso la faremo poi però voglio iniziare a levare gli alberi e fare qui spianare tutto farci una bella piattaforma in cui puoi fare le tue le cose le nostre tutta di ferro in cui facciamo le nostre le nostre prove abbiamo una cosa da testare veniamo qua facciamo la nostra bella costruzione e poi la riportiamo nel nostro mondo perché no scusa è intelligente come cosa è simpatica anche per me sarebbe figa da fare no non credo secondo me si dai datemi un feedback anche su questo però bella mi piacciono queste idee ogni tanto mi vengono delle idee strane oggettivamente strane ma io sono strano una persona stranissima quindi penso io possa andare d'accordo con me stesso vabbè basta vabbè spianare abbiamo spianato andiamo a fare sto coso vediamo sono curioso di vedere se funge se non funge come funge e perché funziona allora iniziamo blocco così a caso ma non è che serva così tanta roba basta soltanto prendersi alcune cose poi ci servirà un pistoncino da mettere a chi perfetto dopodiché ci prendiamo gli due observer il primo observer va a piazzare no per l'altro verso sorry tac ok perfetto questo è il verso in cui andrà a piazzare l'observer poi ci servirà questo il dispenser mettiamo una cosa del genere sotto questo questo lo possiamo togliere perché non ci serve più ci servia per piazzare il dispenser redstone comparator dopodiché dobbiamo mettere questo coso ok aspetta fatemi fare una cosa prima tac metti il questo coso qua l'observer in questa direzione perfetto levi questo e ci vai a mettere il comparatore tac perfetto comparatore messo adesso non ci resta altro che andare ad utilizzare tutte le potenzialità e funzioni che contiene questo dispenser facciamo così 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 e iniziamo a mettere del glass poi dovremo togliere del vetro perché se no c'è del legno perché se no non le cose qui come ce le mettiamo anche qua sopra ovviamente deve essere una cosa bella e figa tac 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 anche di qua lo mettiamo qui qui oh l'alziamo un po' non lo facciamo altissimo non lo facciamo neanche bassissimo no perché un po' ci può dare una mano tac 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 e poi ci mettiamo l'opper qua perché almeno vediamo no abbiamo il feedback se questo funziona se l'abbiamo fatto per bene se è arrivata la roba su collopper in tutti i casi qua lo rompiamo ci mettiamo dentro del legno e vediamo se funziona oh 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 bello esatto funziona il nostro comparator funziona quasi al 100% ci ha tirato fuori un item su tanti che ne abbiamo tirati su quindi davvero esperimento riuscito questo item elevator funziona per la 1.11 perfetto grandioso fantastico bellissimo dobbiamo pensare a qualcosa dobbiamo attualmente pensare davvero a cosa farci ta 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 e va su madonna che spettacolo è una figata sto coso che spettacolo grande figo un botto ah 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 perfetto va bene grandi 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 adesso che utilità potrebbe avere nel nostro mondo attualmente voglio lasciarlo così perché fa figo eeeh che cosa possiamo cioè che utilità davvero tornando al discorso potrebbe avere qua nel nostro mondo in fin dei conti no come possiamo utilizzare questo elevatore al meglio attualmente non ho grandi farm sotterranee e che farm potrei fare sotterranee cioè nel senso sfruttare questo in che modo allora sapendo che io posso creare un mob spawner e dovrei in bene o male creare un mob spawner questo sarebbe il modo più semplice per riportare sugli oggetti l'idea sarebbe addirittura creare un grinder a sto punto no perché alla fine il mob spawner ce l'abbiamo anche se non funziona come mi aspettavo potremmo attualmente fare un grinder un grinder da qualche parte con un'entrata eeeh a proprio laboratorio cioè nel senso parti eeeh perché il grinder è fortunatamente grande quindi o lo facciamo eeeh lo devi fare per forza da qualche parte vorrei evitare di rovinare no tutta la costruzione perché il ferro qua ci stonerebbe un botto non c'entra un cazzo l'oro alla fine ci sta con sta piramide e tutto il resto va bene però quello lo devo buttare giù non mi piace un po' non mi piace per niente non mi dà fastidio proprio eeeh allora che cosa andiamo a fare che cosa mi servirà è un mob grinder dove possiamo farlo sicuramente in un posto dove so che non andrò più a entrare nei sotterranei quindi penso da ste parti potrebbe essere fatto il grinder ok quindi qua io penso mi posso attrezzare guardate le mucche che ci sono da quando ho ho iniziato a mangiare golden carrot non ho più il problema di massacrare mucche e roba varia allora qua no perché mi piaceva il posto magari ci voglio costruire qualcosa anche se non voglio tanto lasciare la zona principale che è quella lì infatti probabilmente resteremo là non so bene altro cosa costruire come costruire e come farlo cioè sono ancora un po' indeciso voglio fare un'altra isola volante perché è figa un botto e voglio fare tante altre cose fighe comunque non divaghiamo il grinder da ste parti ci fai tipo una piattaforma iniziale e lo fai tipo deve essere mascherato però stile medievale sopra sotto ferro spuderatamente ferro ferro e lo fai tipo a grinder figo bello interessantissimo e poi inizio lo scavo ovviamente fai tutto il resto lo colleghi a questa parte qua e poi dai la possibilità di arrivare i materiali ovviamente saranno bassi e potremo utilizzare appunto l'item elevator per fare questo progetto ho rifatto un attimo i contorni in questa zona qua perché non c'era per niente micelio allora dato che dovremo andare a costruire in questa direzione è bene cosa buona e soprattutto giusta che io faccia queste cose qua che metta il micelio qui quindi ah porca miseria questo me lo sono scordato vabbè fotte se che lo espanderemo dopo sì il problema è che mi si rispande qua eh non va bene porca miseria è questo il problema no che magari fai cioè tipo te lo espandi fai tutto il bel coso poi dopo ti si espande un pezzo di terra ti rimangono un paio di pezzi di terra a cui non pensi e poi vai a fare il danno però adesso lo ci cioè fixiamo il tutto subito aspetta guardate guardate cosa easy perché cioè basta soltanto prendere alcune parti da lì tac ovvero mi serve una due tre e quattro ok con questo dovrei farcela non ho preso la quarta chi è che mi disturba questo zombie che morirà malissimo due ok morto male a questo lo levi subito e ci rimetti porca miseria vedi che me ne scava due odioso tac questo me lo scava uno va bene e poi ecco vedete qua il problema qual è questo tac ne mettiamo un altro qua sotto perché questo dato che è un blocco non solido non cioè non è cioè per lui non è un problema magari questi li leviamo facciamo una cosa del genere leviamo uno e due e ci rimettiamo la terra normale così siamo tutti belli e tranquilli dammi questo coso tac tac perfetto adesso si dovrebbe espandere tranquillamente perché questo sta così vabbè io posso utilizzare la zappa no se l'ha detto prima guarda free utilizza la zappa fai la cosa più figa ok perfetto va bene questo dovrebbe espandersi dovrebbe diventare tutto micelio così abbiamo fatto anche un'altra zona e siamo pronti a costruire anche da st'altra parte allora si è detto che il grinder lo faremo da ste parti quindi magari andremo a ripiantare ste alberi da un'altra parte perché se no davvero ne abbiamo troppi troppi pochi qualche albero ce lo vorrei avere perché mi sa carino e poi qua ci iniziamo a fare la costruzione del grinder bello bello mi piace ora l'ultima cosa voglio andare a finire quella cioè quella parte di testing con i blocchi di ferro e basta eccolo qua questo è il campo di prova in cui andremo a provare i nostri macchinari sarà soltanto provvisorio per venire qua a provare i macchinari e poi andarli ad inserire mi sembra non si era una freccia eeeh muori 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 male perfetto e poi andarli successivamente ad inserire nel nostro mondo per vedere per verificare appunto la funzionalità di queste cose perché almeno così siamo sicuri che questo funziona e una volta che andremo ad inserirlo funzionerà ovviamente quando dovremo fare un episodio di prova o magari vieni qua lo provi prima e poi lo andiamo a costruire va bene ragazzi penso che per questo video possa essere tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi voglio lasciare mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se avete fatto di condividere il video su facebook e farmi un canale a persone mi raccomando passare in tutti link in descrizione facebook instagram e telegram siamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti